Allora lo farò. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Mi dono il cuore, tu mi doni. La corrida di Corrado, domani alle 20.55 su Canale 5. Capelli sani usando una lacca. Pensa, tenuta perfetta e li senti sani. Alcune lacche possono appiccicare i capelli rendendoli rigidi. Nuova lacca Pantene per capelli in movimento contiene elastesse. Un nuovo ingrediente elastico per una perfetta tenuta flessibile. Alcune lacche possono appiccicare. Pantene tiene perfettamente e non appiccica. Nuova lacca Pantene in movimento. Senti i tuoi capelli, non la tua lacca. C'è un segreto nel cuore degli irlandesi. Jameson Swisky, il sole d'Irlanda. Nuove forme di una grande tecnologia ottica. Fotocamere compatte Ixos, create da Canon. Allora, è Castano, 1.80. È l'ultima volta che l'avete visto? Due giorni fa, ha preso l'auto e ha detto, vi chiamo appena mi fermo per fare benzina. Ed è sparito. Non avrà mica una Corsa Mille? Meno di un secondo per amarla. Più di 800 chilometri con un pieno. Pensavano che stessi fuggendo. Ma stavo solo correndo. Nella notte, verso la luce. Non vedevo che te. Senza un inizio, né una fine. Escape. Calvin Klein, fragranza per uomo e donna. Mi sapreste dire quante volte all'anno viene Natale? Esatto! E allora il panettone? È meglio sceglierlo speciale. Uh, quello con la glassa di nocciole. Gran nocciolato maina. Mai Natale più buono. Catwalk Io e Bome Mercier Al ristorante, dopo un'indimenticabile cena romantica, soprattutto un Fernet Branca. Un Fernet Branca. Scegli lo stile che vuoi, con l'H-Pantene in movimento o l'H-Pantene ferma. Qualunque sia il tuo stile, la scelta è Pantene. Ah, eccoli che tornano. Con due cuccioli così, il pulito sicuro è importante. Io uso l'Isoform Casa quando voglio stare tranquilla, perché so che pulisce e in più disinfetta. E che buono è il nuovo profumo purezza alpina. L'Isoform Casa purezza alpina, pulito sicuro, con un buon profumo. Questa è la storia di uno di noi. Unico, inimitabile. Italia 1 dedica uno speciale in due puntate a uno dei miti della canzone italiana. Un personaggio che ha attraversato la nostra storia dalla fine degli anni 50 a oggi. Celentano è un giovane molto promettente. Ha soltanto un difetto, sa sempre come fare successo. E questo a me mi dà fastidio, va bene. Celentano come non l'avete mai visto, con molti filmati inediti. Adriano specialmente Celentano, condotto da Simona Ventura. Domenica alle 21.30 su Italia 1. Victor! Victor! Signore! Grazie a tutti.